che giorno è oggi è il primo giorno di scuola, oddio sembrava ieri che era l'estate, ne voglio l'estate stuccio, vediamo cosa abbiamo qua, una matita, una penna, addirittura una pera di scorta siamo a posto per tutto l'anno allora, stuccio c'è, abbiamo la tagenda, c'è, mio zaino pure, ho comprato lo zaino quest'anno, prendiamoci conto, perfetto la cartella è pronta, però cavolo, sono un po' stanco, sono tornato il mio zaino e siamo pronti ah che bello, oggi è il primo giorno di scuola, fortunatamente ho già preparato ieri sera il mio zaino e non vedo l'ora, voglio vedere i miei nuovi compagni di classe vabbè dai, troviamocela veloce dai, su, su al taroncini maglietta dai cavolo, sono già pronto sono pronto ma Luca, non noti qualcosa di strano? oh, non son pettinato no, guardati un attimo ma, beh, non vedo niente di particolare, cioè, normalissimo beh, hai vestiti messi a rovescio ah, piccolo particolare, grazie mille prego correggo subito è il solito ok, adesso sì che sono a posto che emozione, non vedo niente di vedere le mie amiche finalmente sono pronta e anche puntuale non come Luca ah no, però aspetta gli snack una merenda, mamma mia l'avrò presa? no, ma io spero sì oh i miei tacos le mie patatine con mille zenzero, mamma mia che buone le mie pringos no, ho dimenticato il cioccolato vabbè dai vorrei dire che oggi starò leggero ok, dai, visto che sono in anticipo vediamo che merenda ho preso uno yogurt e due baretti dietetiche perfetto, posso andare buongiorno profe buongiorno, eh alla buon'ora eh, ma quel po' della sveglia profe, cioè non è suonata eh, devi dare la sveglia, dai eh, oh pazienza, allora interroghiamo come interroghiamo? sei levato in ritardo e quindi ti interrogo ma come profe? ma sono il primo giorno il solito il primo giorno non è che si faccia molto, dai primo o ultimo è uguale siamo a scuola, Luca prendi il potere di matematica eh, profe non ce l'ho il potere di matematica solo un astuccio due penne si vuole un po' di patatina? prendi il diario allora va bene dai un po' di buona persona Luca prendi il diario bene va bene e va bene profe ho anche le penne penso un po' lei ah che strano che hai le penne fammi le opzioni di secondo grado va bene e allora secondo però profe non è giusto se è il primo giorno vuoi una nota immediatamente? continuo subito profe bene ax alla seconda più bx più oh buongiorno Lisa scusami per il ritardo no allora come sono andate le vacanze bene le volevo regalare questo pop up oh Lisa grazie mille ma è quello della B.U. eh sì lo darò a mia figlia che tra l'altro si chiama come te grazie mille prego penso che oggi volevo proprio interrogare e volevo interrogare proprio te comunque non preoccuparti so che sei una ragazza che studia e volonterosa sì allora dimmi un po' di che colore era il cavallo bianco di Garibaldi? bianco brava Lisa dieci dieci e cominciamo bene l'anno scolastico eh bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto se vuoi sentendo così un bel pollicione in su sì sbattiamo questo video qua di like raga oh yeah e si ricomincia la scuola back to school wow mi raccomando ragazzi seguiti su Instagram io mi chiamo lucas.official io zanotti lisa ceci official marco.zanotti e anche su tiktok sono sbarcato anch'io raga luca.zanotti io zanotti lisa io ceci official ci sono anch'io non pubblico mai marco.zanotti ci sono quasi a 500.000 raga uuuu wow assurdo mamma mia e ho anche aperto il mio canale youtube ceci official wow è già arrivato a 20.000 raga cioè ma quanto credeci di meno di un mese tanto guarda e dai ragazzi ci vediamo in un altro video eee ciao belli ciao